A raggiungermi qui alla mia destra, Maria Carla, Carlo grazie, salutiamo i nostri amici da casa, un applauso a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo e viva il matrimonio e viva per sempre! Io e te! Ripasso la tabellina del 2, quanto fa 2 per sempre? Non fa 10, non fa 100, non fa un milione, non fa io e te!